Arrivati alla resa dei conti, il comune di Caltanissetta chiede un sequestro conservativo di 150.000 euro per Antonello Montante. Danno d'immagine. Alle battute finali, il processo in secondo grado che vede imputato l'ex paladino antimafia. L'avvocato incaricato dal comune Riccardo Palermo, nella discussione finale, ha esposto le ragioni della dichiesta dinnanzi alla corte preseduta da Andrino Chipinti, all'Atere, Giovanni Battista Tona e Alessandra Giunta. Anche le altre parti civili, una decina in tutto, hanno discusso per i loro assistiti. Un'ossessione bulimica, ha detto l'avvocato di Pietro Di Vincenzo, nei confronti del suo cliente. Lo dimostrano tutti gli accessi abusivi allo SDI per avere notizie di Vincenzo, nemico numero uno di Antonello Montante. E poi ci sono i giornalisti, Attilio Bolzoni e Giampiero Casagni, che Montante doveva annientare anche loro parte civile nel processo. Sorrei di aver scritto per primi un cosa non quadrama nel sistema dell'antimafia di facciata. Anche loro controllati, spiati, vessati da Montante secondo le accuse della Procura e secondo gli avvocati. Montante ha sempre rigettato tutte le accuse. L'avvocato del testa e chiave Alfonso Cicero, Annalisa Petitto, ha iniziato la discussione che concluderà il 28 gennaio-venerdì. Discussione incentrata sulla tesi complottistica di Montante e le presunte denunce contro la mafia, ma è legata agli atti del processo secondo l'appetitto.